Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù partì con i Suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i Suoi discepoli dicendo «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti» Ed egli domandava loro «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose «Tu sei il Cristo» e ordinò loro severamente di non parlare di Lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli iscrivi venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli voltatosi e guardando i Suoi discepoli rimproverò Pietro e disse «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai Suoi discepoli, disse loro «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». Parola del Signore. Siamo al centro del Vangelo di Marco veramente in un momento decisivo, uno spartiacque. Gesù porta i Suoi apostoli, i Suoi discepoli, molto lontano, al nord, all'estremo nord, oggi è proprio vicinissimo a questo luogo al confine con Libano, in terra pagana, a Cesarea di Filippo. Oggi è un luogo molto bello perché è un parco naturale, è una delle sorgenti del fiume Giordano, quindi un luogo ricco di acque, di acque appena sgorgate, quindi di acqua purissima, di verde e anche di grandi resti archeologici. In questa città totalmente pagana, Gesù fa la domanda centrale del Vangelo di Marco, anche della vita cristiana, «Chi sono io per voi?». Prima chiede, fa una specie di indagine d'Oxa, no? La gente chi dice che io sia, che cosa dicono di me? Ecco, perché questa è la domanda che percorre tutto il Vangelo di Marco, chi è Gesù? Qualcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, il profeta che doveva tornare, oppure un altro dei profeti. Poi, guardandoli in faccia, ci immaginiamo questo, Gesù scruta i Suoi apostoli e dice, «Ma voi, ma voi, chi dite che io sia? Chi sono io per te?». Questa è appunto non solo la domanda fondamentale del Vangelo di Marco, ma è il centro della vita cristiana, è la domanda del credente, «Chi è Gesù per te?». Risponde Pietro, come al solito il più, come dire, sempre entusiasta, il primo che si butta, il primo che intuisce, però intuisce spesso male, ma si è trasportato dall'amore, dall'entusiasmo, dall'adesione, e tu sei il Cristo. Come dire, allora ci siamo, avete capito, Gesù è, il Cristo vuol dire l'unto, no? L'inviato definitivo di Dio, il consacrato, colui che è rivestito dallo Spirito di Dio, viene per salvare il mondo. Ma subito dopo, Gesù specifica che cosa vuol dire essere il Cristo per lui, l'inviato di Dio. Vuol dire soffrire molto, vuol dire venire ucciso, vuol dire dopo tre giorni di sorgere. E vedi, qui Pietro si capisce subito che non intende il Cristo come lo intendeva Gesù. Loro aspettavano il Cristo, cioè il Messia liberatore dai Romani, aspettavano qualcuno che instaurasse il regno di Dio sulla terra, ma proprio in maniera molto fisica, a capo di un bel esercito, si mettesse a liberare la Terra Santa, instaurasse il regno di Dio lì, in Israele con a capo appunto il Messia, il re Messia. E quindi Pietro dice, ma signore, per carità, questo non ti accadrà mai. Ecco, Pietro ha detto una cosa giusta, tu sei il Cristo, ma non l'hai intesa come la intendeva Gesù. È anche, come dire, un suggerimento che ci dà il Vangelo di Marco. Guarda, non essere affrettato nel dire chi è Gesù, ma sì, lo so, me l'hanno detto al Catechismo da quando ero piccolo, il figlio di Dio, ma hai capito veramente chi è Gesù? Stai intendendo la sua identità come la intende lui? Infatti cosa dice Gesù a Pietro? Va dietro a me, Satana, cioè tentatore. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cosa vuol dire va dietro a me? Vuol dire riprendi il tuo posto di discepolo. Il discepolo sta dietro al Maestro. Pietro ha messo la freccia, è andato davanti, e ha voluto dire lui la via che Gesù doveva prendere, ma non è quello il posto del discepolo. Il discepolo non è quello che decide la strada, è il Maestro, è la guida che decide la strada, è Gesù. E allora bisogna stare dietro e avere la pazienza di seguirlo per scoprire davvero la sua identità. Questo vale anche per la nostra vita. Chiediamo al Signore di essere discepoli, cioè gente che segue sempre e non dice a Gesù quello che deve fare, ma cerca di capire quello che Gesù intende chiedere anche a noi. giorni... 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 insieme... giorni...